Valvoli nella norma. Superiamo i 50.000. Resistenza atmosferica accettabile per attendere direzione. Vettore, 10 ore e 16 minuti. Fuoco a volontà. Lo vedi anche tu, Reyes? Affermativo. Ecco che arrivano! Stiamoci dentro! Ricevuto! Scar, fuoco sul prossimo, caccia torpediviere! Missili in arrivo! Missili in arrivo! Flare! Flare! Lanciano degli schete! Aggancia un bersaglio! Kaboom! Aggancia quei bersagli! Portamento nemico! Bersagli, ore 12. Bersaglio distrutto! Un esercizzi! Si è avvenuto! Si è avvenuto! Tant'è più di un esercizio! Temico, ore 6! Mi ha agganciato! Mi ha agganciato! Così ti è avvenuto! Tra l'ho in giro! Ricazzo, ore 9! Si allontana! Si allontana! S.T.A. 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 Fuoco sul cacciatorpediniere nemico! S.T.A. S.T.A. Difese aeree! S.T.A. 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 Atención! S.T.A. Alarme! S.T.A. Grazie a tutti. Resta in volo. Amici riscadati. Sardegna. Amici riscadati. Centro. Versaglio distrutto. Ottimo. Squadrilla. Qui Scar 1-1. Rotta per la Retribution. Rientrare. Ricevuto. 3-4 in rientro. 3-6, Roser. Vedo la Retribution. Raggrupparsi, rifornirsi e inseguire. Torniamo sulla nave, tenente. A tutte le unità, down, fix rosso, CVS, battuglia vento. Torniamo sulla Retribution. Qui ho delle letture anomale. Idem, controllo pressione statica. Cos'è quella roba? Scar, fuoco su quella superporta aerei. Roger, Ethan, a te i comandi. Io sparo. Raggiorni. Rider, riattacco la plancia. Tu tieni in prova del territorio. Farnora a miragliotei le corse dell'Ulithus Moth. Avete perso. La morte non è viso cura. Sei freddo, Rider. Missile in arrivo. Flair! Missile in avrete. Plancia agganciata. Non so sa. Stai a rire a Iskada. Nessun effetto. Il cazzo è forte. Roger, secondo passaggio. Sta con lei, Ethan. Mi aggancerò. Contro misure fuori. Fuoco sul cannone, uno, due. Infatti, arrivo. Attenzione, il messaggio è ancora operativo.